Nel convegno che si sta tenendo oggi in Fondazione Cardinal Gusmini qui a Vertova si illustrano i risultati raccolti all'interno del progetto GIOB. Che cosa rappresenta per la comunità scientifica e geriatrica in particolare? Oltre che per la comunità scientifica e geriatrica i risultati del GIOB sono importantissimi per gli anziani perché insegnano alle persone che lavorano nelle strutture residenziali come conoscere, capire e intervenire per ridurre il dolore. Quanti casi ci sono e come si era intervenuti prima di questo progetto in questo senso? L'anziano di per sé tende a non comunicare il suo dolore, a tenerlo dentro e quindi è importante che lo riconosciamo per poterlo poi affrontare. Ci sono inoltre tutte le persone affette da demenza le quali non riescono a esprimere il dolore e a tirarlo fuori, tirare fuori la propria sofferenza e comunicarla. È importante che noi impariamo queste persone a curarle adeguatamente perché soffrono e soffrono molto. Oggi, come detto prima, si presentano i risultati raccolti in questo progetto che prevede un'ultima fase di verifica nel giugno di quest'anno. Che cosa ne farete di questi risultati? Qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di intanto migliorare il servizio nelle residenze della valle della Bergamasca dove sono state fatte questa sperimentazione. E poi, anche attraverso il supporto di società nazionali e internazionali come quelle che io rappresento in questa sede, portarle fuori, portare i vantaggi di queste scoperte, di questi studi, anche in altri ambienti. Questo è importantissimo perché così si crea un circolo virtuoso di conoscenze. Queste scoperte sono state promosse solo in Valseriano oppure ci sono diversi centri di studi che le stanno approfondendo? No, c'è una sensibilità generale in giro per il mondo sui temi del dolore dell'anziano e del dolore che si fa fatica ad esprimere e ad interpretare, però uno studio così approfondito come quello che oggi presentiamo ha veramente una primogenitura a livello internazionale. Da parte nostra, come Consiglio d'Amministrazione, crediamo fortemente negli investimenti nella formazione del personale e quindi ci dedichiamo sicuramente impegno sia in termini di risorse umane che di risorse economiche. Vuol dire che raccogliere questi dati può essere comunque il punto di partenza sul quale in futuro implementare nuove valutazioni, nuovi studi e portare quindi a sempre una migliore qualità di cura e quindi anche una migliore qualità di vita degli ospiti nelle strutture residenti.